E dal lunedì senza tetto dello Spolettino hanno un luogo dove rifugiarsi. Si tratta di una struttura di pronta accoglienza voluta dalla comune e gestita dalla cooperativa Il Cerchio, realizzata anche grazie all'ascito della famiglia Minestrini. Giulia Monaldi. Il freddo, l'emergenza di essere senza punti di riferimento e la paura di addormentarsi e non risvegliarsi il giorno dopo. Sono solo alcuni dei problemi che immaginiamo abbia noi senza fissa dimora. Nessuna poesia nel vivere dove capita e dormire all'aperto, come invece potrebbe evocare la parola francese clochard. Abbastanza, abbastanza sì. Lei da dove viene? Io vengo dalla Polonia. Quando sono arrivato in Italia c'avevo lavoro, stavo a Napoli, ho trovato in provincia di Napoli. Invece adesso ha perso il lavoro? Invece sì, ho perso il lavoro, poi ho perso le gambe quasi, ma mi trovo in difficoltà, però mi aiutano moltissimo. A Spoleto da lunedì chi non sa dove ripararsi avrà un letto, un appartamento dove trovare rifugio e una colazione calda. È la struttura di pronta accoglienza voluta dal comune e gestita dalla cooperativa Il Cerchio. Sei letti. Dalle 21 della sera fino alle 8 della mattina dando anche una colazione calda. Su questo però stiamo lavorando per metterci in rete e sempre in accordo con il comune di Spoleto. Per evitare che si ripeta il dramma accaduto lo scorso anno ad un senza tetto morto di freddo nell'area dell'ex caserma Minervio. Dignitoso per una città e civile per una città avere un luogo dove queste persone possono trovare un rifugio.